Ma, un momento, che cosa ci fai la signora nella cella del detenuto? E niente, ero venuta a trovare mio marito. In camicia da notte? Chi sei? Mi pare di sesso! Lei non può immaginare che notte di un ferro passato! A girarmi e a girarmi per il letto passato il mio marito che era in prigione! Cos'è cosa? Mi sono svegliata, no? Mi sono precipitata qui! Mi sono meno toccarmi! Mi sono meno pittimarmi! Sara! Signor Maresciallo, permette? Posso dirle una cosa? Senti, io stamattina non sono venuto qui per finire il cuciverba con lei. Ah no, no. Perché cosa? Io ho la soluzione del caso del vino adulterato. Io ho la soluzione del vino!